Niente più divisioni o spaccature, ma un unico fronte di centro-sinistra compatto e supportato dalle liste civiche. L'ex governatore Crocetta, con una lettera aperta, richiama all'unità l'attuale sindaco di Catania Enzo Bianco e il presidente regionale della comunità di Sant'Egidio, Emiliano Abramo, nel nome di un progetto vincente in vista delle elezioni comunali del 10 giugno. Un programma che arriverebbe in estremis con Crocetta, che ha messo definitivamente da parte la volontà di candidarsi alla poltrona più importante di Palazzo degli Elefanti. E non ambisco sinceramente nessuna carica istituzionale, per essere chiari. Io voglio continuare a fare politica esattamente come la sto facendo adesso, cioè discutendo con la gente, riflettendo, anche riflettendo sulle cose giuste, sulle cose sbagliate, su possibili errori che si possono fare nella vita, anche in buona fede a volte. Nella lettera Crocetta sottolinea come la città non può perdere la grande occasione che può rappresentare un progetto civico congiunto Bianco Abramo. Oggi non è più tempo di divisioni. Il progetto di Bianco e quello di Abramo sono accomunati dall'idea centrale del civismo, per il bene della città. Naturalmente in questa Pax a fare un passo indietro, anche se non lo specifica, dovrebbe essere Abramo. Una necessità, è scritta nella lettera, che renderebbe certa la vittoria, per impedire che la città ritorni ai tempi bui di amministrazione di centrodestra, che devastavano i bilanci del comune e lasciavano senza corrente elettrica le vie e le piazze. Non è esserci. Grazie.